L'indagine ha portato i poliziotti del commissariato e PM della procura ad individuare un presunto giro di spaccio di droga in città. Gli inquirenti hanno oltre accertato la disponibilità di armi davanti alla GIP del tribunale. Sono stati sentiti coinvolti raggiunti da misure e proprio per questi fatti il 37enne Carmelo Di Dio viene considerato come il presunto punto di riferimento. Sono stati ritrovati pure reperti archeologici a lui riconducibili. Già lo scorso anno erano stati sequestrati quantitativi di droga, armi e munizioni. Sia lui che era consorte 33enne sono assistiti dal legale cateno Di Dio. La legge ritengono di poter chiarire le rispettive posizioni. Hanno respinto gli addebiti inoltre sulla presunta consegna di un fucile proprio a Di Dio. Sia il 25enne crocifisso Daniel Famato, almente domiciliari, sia il 31enne Nunzio Tilaro, rappresentati dagli avvocati Giovanna Cassarà, Calogero Giardina e Gianmarco Cammalleri. Hanno riferito che quella individuata agli investigatori non sarebbe stata un'arma ma tutt'altro. Fama ha anche negato alcuni episodi di spaccio che gli vengono contestati. Secondo gli investigatori avrebbero comunque avuto rapporti con Di Dio. Non si esclude che i coinvolti possano rivolgersi adesso ai giudici del riesame e soprattutto per quanto concerne le misure.